Una mensa a pianta circolare con almeno 100 vasi di ceramica ed alloggiamenti per molti braceri pronti per cucinare per più persone. Si tratta di un insediamento allestito tra l'età del bronzo tardo e quella del ferro antico, in una posizione panoramica ben visibile dai viaggiatori lungo il fiume Cura in Azerbaigian ed è la straordinaria scoperta della missione GARCAP, una collaborazione tra l'Università di Catania, il CAMNES di Firenze e l'Accademia delle Scienze di Baku con il supporto finanziario del nostro Ministero degli Esteri. Ne erano stati trovati altri in Georgia e in Armenia, ma mai in questa zona e tantomeno con una cucina eccezionalmente ricca di scodelle e vasi. Lo scavo è dunque un unicum che potrebbe aprire nuove frontiere nello studio delle antiche civiltà locali. La ricerca è stata avviata un anno fa a Tavatepe, nella Azerbaigian nord-occidentale. Le testimonianze risalgono alle popolazioni nomade del Caucaso merdionale nel periodo tra il X e l'VIII secolo a.C.